Salve e bentrovati. A Milano la settimana si apre con un chiaro e inequivocabile ribasso. Diciamo a Milano poiché uno dei fattori di questo pesante ribasso è stato lo stacco delle cedole da parte di alcune società. Nello specifico il Fuzimib ha perso l'1,29% con un trend discendente sin dalle prime ore che ha riportato l'indice sui 24.350, vanificando dunque la stragrande maggioranza dei progressi di venerdì. Nel resto d'Europa la situazione è più tranquilla. Il DAX per esempio si limita a perdere lo 0,36%. Negativa anche Wall Street ma con variazioni diverse. Il ribasso del Dow Jones si limita a pochi decimi di punto percentuale. Quello del Nasdaq si aggira intorno al meno uno. Il passivo peggiore di oggi è a piazza affari e appartiene a uno di quei titoli colpiti dai dividendi. Stiamo parlando di Mediobanca che ha perso quasi 7,5 punti. Il forte calo del petrolio ha avuto effetti negativi su titoli di questo settore. Saipem, Tenaris e Deni occupano infatti rispettivamente la seconda, la terza e la quarta posizione tra i peggiori di oggi, con ribassi compresi tra i 6 e i 5 punti percentuali. Segue Telecom Italia che lascia sul parterre oltre il 4%. In una giornata come quella odierna sono pochi i titoli positivi. In WIT e Unicredit sono gli unici a riuscire a chiudere con più di un punto percentuale di rialzo. Sul mercato delle valute, Euro-Dollaro era ritornato sotto quota 1,03 già nel corso della notte, per poi rimanere sotto tale soglia anche successivamente. Sostanzialmente stabile l'euro sterlina, leggero progresso per l'euro-yen. Per chiudere, l'analisi del giorno a cura di Pietro Origlia. Salve a tutti per le interviste di Traderlink. Come ogni lunedì, ospite Pietro Origlia, trader indipendente ed ideatore del blog Unocchio sui mercati azionari. Con lui faremo la consueta panoramica sui listini. Lascio a te la parola. Ciao Rossana, bentornati, buon inizio di settimana a tutti. Cosa dire? Che Piazza Fari la scorsa ottava ha chiuso la settima settimana consecutiva al rialzo grazie alle attese da parte degli investitori di banche centrali, Fed e BCE, non aggressive in tema di rialzo dei tassi di interesse. Questo nonostante nella seduta di giovedì il membro votante della Fed di San Luis, Ballard, abbia dichiarato che il pivot dei tassi di interesse oltreoceano potrebbe variare tra il 5 e il 7%, considerando che siamo al 4%, il nervosismo a Wall Street giovedì scorso è tornato a salire. Tant'è che Wall Street, a dispetto dei mercati europei, chiude lottava in territorio negativo. Però ricordiamoci che Ballard è il classico canto del cigno perché dal 2023 non sarà più un membro votante del FONC. Per quanto riguarda Piazza Fari, aperture in leggero territorio negativo, meno 0,8% ma per lo 0,7% incidono alcuni stacchi di dividendi di sette importanti società, tra cui abbiamo anche Mediobanca, Poste Italiane, quindi un trend che rimane chiaramente alla rialzo. In questo contesto discese anche verso area 24.000, 23.000, 4.50% non cambierebbe il trend primario, ma verrebbero utilizzate per scaricare gli indicatori e tornare nuovamente a risalire. Ma vediamo in questo contesto quali sono i titoli interessanti perché il settore bancario continua a guidare questo rally. Tra questi troviamo il Banco BPM. Il trend rialzista ormai in atto fin da luglio, prezzi che oggi si confermano sopra i top di giugno 3,25 e attenzione perché una conferma sopra questi livelli aprirebbero target ambiziosi, ovvero i top del 2022, 3,70, 3,75, debolezze verso area 3,05, 3,10, occasioni d'acquisto, uguale il titolo unicredita. Anche qui, forza relativa e importante, un titolo che prosegue il suo trend ascendente fin dal mese di luglio, conferme sopra le 13,15, long, con primi target, ricopertura del gap down, si sta aperto nel mese di febbraio, 13,85, su debolezza, primi livelli supportivi da monitorare, 12,60, 12,65. Ed infine una mite gap, il titolo è un euro, siamo nella settimana del Black Friday, il titolo giovedì-venerdì, brecca al rialzo, queste resistenze, i top d'agosto, con volumi tripli rispetto alla media generale mensile, e conferme quindi sopra le 12,65, 12,70, metterebbero un target ambizioso sulla soglia dei 14 euro. Quindi questi in poche battute, quello che può succedere in questa settimana a Piazza Affari, dati in settimana che vede, dati macro, scarni, importanti, le minute di BCE e FED per capire le prossime mostre delle banche centrali. Perfetto Pietro, io ti ringrazio per tutte le informazioni, con te rimando l'appuntamento alla prossima volta. Grazie a te Rossana, buona giornata, buon trading, a lunedì prossimo. È tutto, si chiude così l'appuntamento di oggi, vi auguro una buona serata, arrivederci a domani. Grazie a tutti.